Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, visto che qualcuno me l'ha chiesto quando vi ho consigliato, vi ho dato dei consigli e spiegato perché vi ho dato quei consigli lì su quale Formentor comprare, qualcuno mi ha anche chiesto che accessori mettere sulla Formentor, quali sarebbero inutili e quali sarebbero quelli utili, visto che io ce l'ho da due anni fra poco e che la utilizzo sempre e che l'ho testata in qualsiasi condizione come avete visto. Quindi oggi, visto che me l'avete chiesto, vi darò dei consigli su quali accessori sono utili sulla Formentor, quali io reputo molto inutili, quindi direi di partire. Nel finale, guardate il video fino alla fine, non schippate, vi dirò come la configurerei io la Formentor se la prendessi in questo momento qui. Detto ciò cominciamo, cominciamo con l'estetica, il colore esterno. Ovvio che i colori opachi che ci sono sulla Cupra Formentor sono bellissimi, devo dire che il petrolio blu, quello lì, a me piacerebbe parecchio, però purtroppo quei colori lì sono parecchio delicati, bisogna stare molto attenti per poterli mantenere. Io non l'ho mai messa sotto i rulli la vettura, ma ho visto che spesso e volentieri la gente la butta sotto i rulli perché non c'ha voglia di lavarla. Quei colori lì, se li mettete sotto i rulli, ragazzi, buttate via la macchina, perché dopo è bruttissimi. Poi, se qualcuno di voi ha quei colori lì e l'ha buttata sotto i rulli, spero per voi di no, fatemi sapere, datemi qualche feedback, come vi siete trovati, cosa gli è successo, tutto quanto. Perché purtroppo so che in giro non tutti i rulli sono proprio affidabili. Questo è un colore metallico, il mio è il grigio graffene, qualcuno l'ha definito cangiante. Non so cosa vuol dire di preciso, però è comunque bello, tipo al tramonto fa dei bei riflessi. Se mi seguite su Instagram avrete già visto sicuramente qualche storia. Passando poi a un'altra parte estetica, i cerchi. Io ho questi, a me piacciono più questi cerchi qui che quell'altro, i neri, però ho visto che la maggior parte monta quelli. I miei sono da 18, perché ho provato la Cupra Formentor con i 19. Purtroppo per la zona mia i cerchi da 19 non sono molto praticabili, sinceramente ho preferito i 18 per evitare di squarciare la gomma ogni 2x3, anche perché ultimamente che c'è stata un po' di pioggia, si è creati anche parecchi crateri. Questo qui non è che ha la spalla chissà quanto grande, però comunque è meglio del 19. A me piacerebbe il 19, perché comunque riempie di più il passaruota, ci sta meglio con la Formentor. Soprattutto io adesso che ho le gomme completamente finite, sembra che c'hai i ruotini, non hai i cerchi da 18, però vabbè, sono piccoli dettagli. Fra un po' monterò le invernali, però adesso giro con le catene, perché comunque sono 16 gradi, mettere le gomme invernali adesso per me significa finirle dopo domani. Se prendete i 19, vi consiglio di mettere il DCC, che è il Dynamic Chassis Control. Linguaggio povero sono le sospensioni elettroniche. L'ho provata, non per tanto tempo, mi piacerebbe provarle per più tempo, però purtroppo non ne ho l'occasione. Quindi rifaccio a voi la domanda, se qualcuno di voi ce l'ha, con che cerchi ce l'ha e come vi ci trovate? Da quel luogo che l'ho provati non mi è sembrato tanto male, però non l'ho provati per tanto tempo, quindi non avrei un feedback molto attendibile. Passando agli interni, passiamo ai sedili. Se potete prenderli, ho visto che adesso ci sono a listino, i sedili col poggiatesta integrato. Però attenzione, non prendete quelli completamente in pelle, perché purtroppo, da quel luogo che ho visto, si creano delle ondulature, soprattutto per il posto del guidatore, siccome ci sta sempre uno, se la guida tanta la macchina, ci sta sempre, quindi si creano quelle ondulature, che a me non piacciono per niente. Però vi consiglio quelli misti pelle, come io li ho io, non ho il poggiatesto integrato, sono misto pelle e misto tessuto. Questi qui, col poggiatesta integrato, misto pelle e tessuto, sono anche completamente elettrici. Hanno due memorie, è molto comodo, ce l'avevamo sulla Tesla, aiuta, però non è indispensabile. E hanno il winter pack. Winter pack vuol dire che sono riscaldabili. Io, sinceramente, li trovo molto inutili. Mi fratello, ad esempio, sulla Leon li aveva e funzionavano anche molto bene. Io non ce l'ho sul Formentor e non li metterei se prendessi di nuovo il Formentor. Per me sono un accessorio inutile. Ovviamente sta a voi decidere se vi servono o meno. Ovvio che se siete un po' freddolosi oppure abitate in zone molto fredde, è lì. Forse io ve li consiglio. Rimanendo sempre agli interni, però passando un po' più in alto, quindi al tettuccio, parliamo del tettuccio panoramico. Io sulla mia, come potete vedere, non ce l'ho e sinceramente non lo consiglio. Per carità, io sono d'accordo, l'abitacolo è più luminoso, fa la sua bella figura quando è mezzo aperto, che crea quella pinna un po' sopra il tetto della macchina. Per il prezzo che costa, visto che costa quasi 1500 euro, se non sbaglio, poco meno, e per il peso che aggiunge in alto, io ve lo sconsiglio sinceramente. Vi ripeto, sono solamente dei consigli, voi dopo fate come preferite. Stando sempre agli interni, parliamo però della tecnologia. E qui, io sinceramente, vi consiglio di prendere il massimo. Cosa vuol dire questo? Vi consiglio di prendere il Technology Pack Safe Hand Drive XL con lo schermo da 12 pollici. Questo praticamente vi dà tutti gli ADAS completi, quindi anche il Traveler, l'Emerge Assist, tutto quanto. Oltre a questo, vi dà anche lo schermo centrale, compreso della navigazione e tutto quanto, da 12 pollici. Ciò che vi consiglio rispetto al 10 pollici, perché ho visto che lo schermo da 10 pollici sulla Formentor, stona parecchio, perché comunque come vettura è abbastanza importante, vedi tutto sto musone davanti, comunque il cofano qui lo vedi, vedi le ondulature. Devo dire che vedere sto schermo, che poi la parte esterna è uguale per tutti, sia da 10 che da 12 pollici. Il problema è che si riduce lo schermo, quindi aumentano i bordi. Quindi io automaticamente vi consiglio di prendere il pacchetto completo, quindi con tutti gli ADAS e lo schermo da 12 pollici, che dopo vi dà la navigazione, il volante riscaldato, il bagagliaio elettrico, il bagagliaio che si apre col piedino, la retrocamera posteriore vi dà i sensori a 360 gradi e chi più ne ha più ne metto, vi dà un sacco di chicche tecnologiche e così. Io vi consiglio di mettere questo qui, che praticamente rende la vettura dal punto di vista tecnologico full optional. Ovvio che se scendete di categoria ci sono anche altri pacchettini, diciamo, che non comprendono proprio tutti questi accessori. Ci sono anche quelli che non hanno proprio gli assistenti di secondo livello, quindi non c'hanno il Traveller, non c'hanno l'Emergy Assist, sì, si chiama l'Emergy Assist, che per chi non lo sapesse è quel dispositivo che quando è inserito il Traveller, se voi non rispondete ai comandi della vettura, ovvero se non mettete le mani sul volante e dopo che la vettura vi dà diversi scossoni, quindi suona il klaxon, vi dà dei colpi di frenata, voi non vi svegliate, lei accende le quattro frecce e ferma completamente la vettura e poi chiama i servizi di soccorso. Quindi vi consiglio di metterlo, io sulla mia formentor ce l'ho. Oltre a questo, ci sarebbe come tecnologia anche la telecamera 360. Io non ce l'ho, la trovo inutile, non vi consiglio, cioè nel senso, io l'ho provato, un amico mio ce l'ha sul Q5, l'ho provato e lo reputo abbastanza inutile perché i sensori che ci sono già compresi nelle technology drive pack e safe and drive, quello lì, insomma quello che vi ho detto prima, XL, comprende i sensori a 360 gradi che funzionano bene, rilevano anche marciapiedi se non sono proprio raso terra. L'unica pecca è che ogni tanto fanno fatica a svegliarsi, vanno a giorni alterni, quindi va bene così. Facendo questa premessa dei sensori vi sconsiglio di prendere la telecamera 360, ovvio che se volete prenderla la potete prendere tranquillamente. Uscendo poi fuori dalla vettura abbiamo i fari e qui come tutti sapete, se lo sapete, se non lo sapete, ve lo dico io, dal 2021 sono stati inseriti i fari Matrix che vi consiglio assolutamente per un semplice motivo perché per accendere gli abbaglianti non alzano e abbassano i fari ma bensì accendono diverse porzioni del faro. Non ve lo consiglio solo perché io sono uno che sfanala perché la gente sta sempre sulla corsia di sorpasso e va a 50 all'ora e io vado più veloce quindi dovete stare a destra se andate piano. Oltre per questo a parte gli scherzi ve lo consiglio anche perché comunque sono più veloci nell'individuare alcune porzioni della strada e poi comunque da quello che ho visto dai vari video su YouTube funzionano anche abbastanza bene. Come ultima cosa sempre all'esterno stavolta al posteriore c'è il gancio traino. Il gancio traino ragazzi è una cosa personalissima ovvero vi serve lo prendete anche perché comunque ha un costo abbastanza importante altrimenti sono soldi spesi inutilmente. Detto ciò ragazzi adesso passiamo a come configurerei io la Cupra Formentor io la Cupra Formentor la prenderei di questo colore qui perché questo grigio graffene che ho io mi piace tantissimo prenderei tutti gli ADAS con lo schermo da 12 pollici sorpresa sorpresa non prenderei la telecamera 360 perché sinceramente non mi ci faccio niente ma prenderei fare a matrice di led perché io sono uno che sfanala tanto perché la gente ripeto sta in mezzo alla strada non si scansa e quindi io sto sempre lì a sfanalarvi a suonarvi oltre a questo perché comunque illuminano molto meglio la strada perché questi per accendere gli abbaglianti si devono alzare devono alzare completamente questa fascia qui invece quelli lì accendono parti del faro come ultima cosa io aggiungerei il DCC e forse prenderei i cerchi da 19 ma non lo so dovrei vedere soprattutto perché riempono un po' di più passavolta se no mi piacciono anche questi che ho come tutti sapete quindi questa è la mia configurazione per quanto riguarda la Cupra Formentor io non è che andrei a mettere la telecamera 360 o i sedili in pelle ad esempio a me i sedili col poggia-testa integrato sinceramente non me ne frega niente mi piacciono tantissimo anche questi fanno la loro bella figura forse l'unica cosa che avrei aggiunto solo su questi sedili qui perché non c'è abbiamo visto a listino non c'è nemmeno adesso avrei magari aggiunto su questi sedili qui la regolazione elettrica perché guidandola io a mio fratello oppure io a mio padre questa vettura qui sarebbe stato comodo avere le memorie clicchi una è la mia l'altra se la divide in mio padre e mio fratello è più facile trovare la posizione di guida se no per il resto comunque col sedile manuale io mi ci sono sempre trovato benissimo anzi non devo aspettare il motorino che fa io invece ho sistemato il sedile ragazzi io sono più per le cose spiccia detto ciò ragazzi io spero che questo video vi è stato utile se voi mettereste altri accessori sulla vostra cupra formentor fatemeli sapere se reputate altri accessori che magari io non ho come la telecamera 360 o il tettuccio oppure altri accessori non mi vengono in mente se li reputate importanti fatemeli sapere nei commenti e ditemelo anche la vostra oppure ditemi voi come configurereste voi la vostra cupra formentor grazie di aver visto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like commentate e arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti